Escursione estiva Ciao, ciao, Pato! È un'estate quest'anno! Davvero calda! Sì, è un'estate quest'anno! C'è 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 un'estate quest'anno! Avete fatto tutti un buon lavoro... Però temo che l'acqua sia ancora sporca… Congratulazioni! Ottimo lavoro! Ah che giornata meravigliosa in questo stagno così pulito e bello da vedere ed è tutto merito del vostro impegno e del vostro lavoro ragazzi! Viaggi nel tempo Ciao Pocoyo! Ciao Nina! Ciao! State facendo un picnic? Mmm e sento un buon profumino! Mmm! Cupcake! Avrei avuto molto da fare! Hanno un aspetto fantastico! Ben fatto! Oh no Ellie! Quanta fatica per nulla! Oggi niente cupcake! Che peccato! Una macchina che ti riporta indietro nel tempo! Ma sì! Certo! Così potete tornare al momento giusto e salvare i cupcake! Geniale! E come funziona? Incredibile! Siamo tornati un minuto indietro nel tempo! Ragazzi! Non vi state dimenticando qualcosa? No Pocoyo! La buccia di banana! Dobbiamo impedire che Ellie ci scivoli sopra! Fa presto! Arriva! E' pronto! Li avete mangiati tutti! Ho capito! Volete fare un altro viaggio indietro nel tempo? Per mangiarne ancora! Ma... Dove siamo finiti? Ci troviamo nel vecchio West! Però non mi sembra che Ellie stia cucinando cupcake! Qu salescuno! Diனatore a tutti! Pec tand le sì che non mi piacciono Goodness! Io direi proprio che ci troviamo nella preistoria. Ah, la buccia di banana! Certo! Bene, finalmente siamo tornati nel presente. È giusto in tempo per i cupcake. Ma che sfortuna, ragazzi. Siete arrivati troppo tardi. No, no, un momento. Ecco, Ellie, con tanti altri cupcake solo per voi. Ciao, amici! Piccolo parco dei divertimenti. Ciao a tutti! Andate da qualche parte? Ah, sì! Andate al parco dei divertimenti! Che bello! Oh, dovrete aspettare il prossimo autobus. Eccolo! Sta arrivando! Nessun problema. Non preoccupatevi. Ne arriverà un altro. Arriva! Eh, credo che fosse l'ultimo autobus. Che peccato. Niente parco dei divertimenti oggi. Comunque, potete fare qualcosa di altrettanto divertente. Ah-ah! Cos'hai in mente, Nina? Che bella idea! Molto bene! Ora che c'è, Pocoyo? Cos'è in mente. Faci stampa, i oppure ii pent Guardian. Erg conto. Cos'è in mente. Ah-ah! Cos'è in mente. Che bello! Però sembra che Pato non si senta molto bene Ora è il turno di Ellie Fantastico! Hai creato un percorso a ostacoli su cui giocare Tranquillo Pato Pato, puoi farcela Pato vuole mostrarvi un'idea per una nuova attrazione Roberto, potresti aiutare Pato? Pato, puoi farcela! Fate attenzione! State volando troppo in alto Andiamoci a continui per ottenere complimenti ragazzi con la vostra immaginazione avete creato un grande parco dei divertimenti in casa ciao a tutti scusi dov'è il mare? ciao Ellie vai in spiaggia? a passare una giornata tranquilla sola soletta molto rilassante guarda più avanti c'è Pato Ellie credo che Pato voglia venire con te che dici Pato? non ti dispiacerebbe guidare? molto gentile da parte tua tu cosa ne dici Ellie? calma Pato Ellie oggi voleva trascorrere una giornata tranquilla ah sì molto meglio Altri amici Ellie? ah sì oh Beh, uno in più non può guastare, vero Ellie? E si parte! Tutti insieme! Che succede, Nina? Oh, certo! Pato, sarà meglio che ti fermi! Anche tu, Bocchio! Andiamo! Andiamo! Oh, bene! Quello che ci voleva! Da che parte è la spiaggia? Molto bene, Ellie! Forse lui saprà dirci da che parte andare! Ma siamo tornati dove eravamo prima! Oh, no! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta! Un'altra volta! Spanio di Sopri Finalmente! Che cominci il divertimento sotto il sole! Ma Ellie, non c'è niente di meglio che condividere questa magnifica spiaggia con i tuoi amici, vero? Anche se non è stato semplice arrivare a destinazione Ciao a tutti! Ciao, Pocoyo! Sono contento di vederti! Ciao! Dove sei stato in queste ultime settimane? Sì, ho capito! Sei stato in vacanza! Sono sicuro che non vedi l'ora di dirlo ai tuoi amici! Ecco qui Pato! Anche lui è appena tornato dalle vacanze! Tu e Pocoyo avrete molte cose da raccontarvi E anche tu, Ellie! Le vacanze sono finite per tutti È il momento di tornare a vedersi Ah, finalmente a casa! Che bello di nuovo insieme! C'è anche Ellie! Molto bene! E c'è anche Ronfatto! Bene, allora raccontateci che cosa avete fatto in vacanza chi vuole iniziare? Pato? Oh, certo! Sei stato al mare! Hai fatto un castello di sabbia! Poi sei andato a pescare! Come dici? Hai pescato un pesce più grande? Ancora più grande? Di più! Enorme! Adesso tocca a Ellie Tu sei stata sulla neve? Molto bene! Raccontaci! Hai conosciuto nuovi amici! E hai fatto un pupazzo di neve! Wow! Come grande! Hai anche saltato con lo snowboard! Che divertimento! Come saltavi più in alto? Così in alto? Saltavi così in alto che avevi il tempo di leggere di fare yoga e addirittura di prendere il tè con gli amici! Questo sì che è incredibile! Sembra che Pocoyo e Pato siano d'accordo con me! Va bene, va bene! Raccontaci la tua avventura, Pocoyo! Hai fatto un viaggio nello spazio! Hai volato vicino a pianeti incredibili! Un pianeta d'insalata! Fa bene alla salute! E un pianeta alla fragola! Mmm, che buono! Sei arrivato fino a un pianeta fatto di torta e caramelle giganti! Sei sicuro, Pocoyo? Sembra che tu ti sia divertito molto! E hai mangiato tutto il pianeta? Sì! Ma, veramente? Non penso che gli altri crederanno a questa storia, Pocoyo! E le tue vacanze, Ronfotto, come sono andate? Tu cosa hai fatto? Beh, si direbbe che queste siano state le vacanze più belle! Le mie più belle! Un momento, un momento, perché dovete litigare per le vacanze? La cosa più divertente è condividere le avventure con i propri amici! Anche se quello che raccontate non è esattamente tutto vero! No! Andiamo, Pocoyo! La cosa più bella è che siete di nuovo tutti insieme! Sì! Forza! Andate a giocare! Andiamo! Molto bene! Ciao! Ciao, amici! Le pulci di Lula Ciao, Pocoyo! Ciao, Nina! Ciao, ciao! Scusami tanto! Ciao, Lula! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! No, Pocoyo, Lula non sta ballando Si sta grattando Ma per quale motivo? Roberto, questo, cosa che sei casato? Ah, Nina, sai qual è il problema? Bleh, hai le pulci! È per questo che ti gratti Che cosa possiamo fare? È per questo che ti gratti, è per questo che ti gratti È per questo che ti gratti, è per questo che ti gratti Le pulci fanno festa! Quando ballano, a Lula viene un forte prurito! E allora si deve grattare! Roberto, posso far sentire cosa ti ho fatto? No! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Roberto, coi so! Ecco fatto! In questo modo le pulci fanno un massaggio a Lula invece che causarle provito. Ciao! Complimenti ragazzi! Sì! Massaggi per tutti! E così le pulci possono ballare quanto vogliono. Rock'n'roll Ciao Pocoyo! Ti piace il rock? Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao Pocoyo! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Facciamo una foto del gruppo? Chi è il leader? Ciao! 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 Ma tutti sapranno che farete un concerto. Anche Nina fa la sua parte. Molto bene, Pocoyo! È il momento del grande concerto. Tutto esaurito! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oggi Pocoyo e Lula vanno al mare. Ciao, Pocoyo! Ciao anche a Lula! Ciao! Esatto! Una bella giornata in spiaggia. Hanno il pranzo al sacco, un ombrellone e... Pocoyo? Pocoyo, dove vai? Da quella parte non si va in spiaggia. Sì, bella idea, Pocoyo! Una pallina arancione rotonda. la cosa giusta da portare da portare con voi. Rotonda? Sì, rotonda come un cerchio! Pocoyo! Pocoyo! Bravissimo, Pocoyo! Questa parte! Oh mamma! Eccolo lì! E ora dov'è la palla? La vedi da qualche parte? Qual è fra queste? Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Quella rotonda è tonda! Rotonda! Giusto, Pocoyo! La tua palla è rotonda! E ora possiamo andare in spiaggia! Il nostro amico Pato si sta divertendo un mondo! Bellissimo, Pato! Oh, ma sta' attento! Per un pelo, Pato! Oh oh, arriva Lula! Povero Pato! Ci aveva messo così tanto! Pato, forse la palla di Pocoyo è da qualche parte qui! Puoi guardare! Rotonda! Sì, Pato ha ragione! Qui tutto è rotondo! Ma la tua palla aveva un'altra cosa, Pocoyo! Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Pocoyo è arancione! E' arancione! Quello è arancione! Arancione! Anche Lula l'ha vista! E no! Di nuovo! Sì! 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 Fai la giocoliera! Che brava! Attenta! Oh no! Ciao Ellie! Ciao Ellie! Così è un po' più difficile! Dovresti dire a Ellie com'è la tua palla! Rotonda! Arancione! No, non è quella! Che altro avevamo detto della palla? È rotonda, arancione e... Potete aiutare Pocoyo a capire qual è? È piccola! Piccola! B pi 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 pi... Bravi! Oh! Ora che avete la palla, possiamo andare al mare? Ah aha! Ahaha! La spiaggia! oh la vedo beh finalmente siamo qui evviva Pocoyo è davvero una bella giornata per Pocoyo e anche per me certo bye bye ciao alla prossima ciao Pocoyo ciao a cosa giochiamo oggi Pocoyo? sì anch'io la vedo Pocoyo è qualcosa che luccica non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti qualcuno sa dirgli cos'è è una chiave chiave proprio così una chiave chissà quali sorprese potrebbe schiuderci che emozione già e se non fosse che ormai sono diventato saggio la scambierei per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro 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 è proprio il buco di una serratura, poco io tesoro? fai un tentativo beh, non sarà un tesoro, ma... non ho mai visto niente del genere prima d'ora ciao! tesoro? tesoro! tesoro? veramente, non ci sono tesori qui? scusaci se ti abbiamo svegliato, ronfotto chiave, chiave, tesoro! tesoro! chiave, tesoro! 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 un altro buco di serratura un altro buco di serratura tesoro, tesoro, tesoro tesoro! 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 pato! pato! sorpreso di vederci, pato! tesoro! pato! Tesoro! 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 Si! Wow! Un ascensore! Emozionante! Forza! Usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro! Eh, direi che più in giù di così, proprio non potete andare! Non ci credo! Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro! Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi! Forza, Pocoyo! Aprilo! Cosa ci sarà dentro? Dolci? Giocattoli? Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere? Così poi mi dite cosa c'è nel forziere! Solo tante chiavi! Tesoro! Non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porti, a fare domande e a esplorare il vostro mondo! È la chiave di tutto! Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Mi chiedo dove possa essere Pocoyo! Eccolo lì! Che vola a bordo del Vamush! Ciao Pocoyo! Ciao ciao! Ciao! Cosa vorrà fare ora Pocoyo? Oh, credo che Pocoyo voglia mostrarci qualcosa! Di che si tratta Pocoyo? Cos'è quella? Qualcuno sa dirmi cos'è? È una tenda! Tenda! Sì, con una tenda si può dormire all'aperto! Cioè si campeggia! Andiamo a campeggiare Pocoyo? Meraviglioso! Adoro campeggiare! Non lo trovate emozionante? Ma viene qualcun altro con noi? So di chi si tratta! Anche Pato viene in campeggio! Fantastico! Niente bagagli Pato! Sei proprio convinto che ci serva? Una spazzola per il bagno Pato! Non credo che troveremo una vasca dove stiamo andando! Oh, povero me! Non imparerò mai che non serve discutere! Allora, hai preso tutto Pato? Bene! Oh! Dimenticavo! Abbiamo riempito il vamoosh di cose! Ma ancora non abbiamo preso niente da mangiare! Cospita! Bene! Magari ora possiamo partire? Ciao, Ellie! Cosa pensi di portarti in viaggio, Ellie? Tutto lì? Solo il tuo orsacchiotto! Ottima notizia! Direi che siamo pronti! Ellie, sali a bordo con l'orsacchiotto e andiamo! Temo che abbiamo caricato troppe cose sul vamoosh! Forse sono troppo pesanti perché riesca a decollare! Pocoio, Pato, secondo voi cosa dobbiamo fare per far volare il vamoosh? Qualcuno è in grado di aiutare i nostri campeggiatori? Il vamoosh è troppo pesante per volare! Cosa possono fare per riuscire a farlo decollare? Eliminare qualcosa! Togliere qualcosa! Oh, ottima idea! Pocoio pensa che dovresti lasciare a terra la tua vasca da bagno Pocoio, tu invece potresti lasciare il frigo Su, su, andiamo! Che no che dobbiate tutti rinunciare a qualcosa! Guardate Ellie! Lei rinuncia all'unico oggetto che aveva scelto! Sa benissimo che questa gita, in fondo, è una scusa per stare insieme! Prova adesso! Accidenti! Pocoio, non pensi di poter rinunciare a qualcosa? Adesso sì che ci siamo! Guardate! Bingo! Sta volando! Ce l'abbiamo fatta! Il vamoosh si allontana! Beh, almeno siamo riusciti a farlo decollare Ma se ne è andato a campeggiare senza di noi Sai Pocoio, ora che il vamoosh non c'è più Dubito che riuscirai a campeggiare lontano da qui Ma forse non ne hai bisogno Hai i tuoi amici e tutte le tue cose Campeggiare! Guarda, guarda! A quanto pare campeggiare può essere altrettanto piacevole Sia che si vada lontano o che si rimanga a casa Basta avere l'indispensabile E cioè, i vostri amici! Evviva Pocoio! Alla prossima! Sparisci, Lula Ciao, Pat Ellie Ciao, hai visto Pato? Mi pare che fosse... Ma che sta succedendo? Ma che cosa avete tutti quanti? Uno, due... Ciao, Pocoio Ciao! Chissà che cosa staranno combinando Gioco Gioco? E com'è questo gioco? Cucù Ah, ho capito! State giocando a nascondino Che bello! Su, continua Pocoio Uno, due... Ottimo nascondiglio, Pato Oh, l'ha già occupato Ellie Cinque, sei... Forza, cerca un altro posto Ehm... Bruco, hai capito che devi andarti a nascondere, vero? Oh, ehm... Nove, dieci, undici, dodici... Ah, il nido di Ronfotto È proprio un ottimo nascondiglio Diciotto Diciannove Venti Arrivo! Si parte! Tutti ai propri posti! Il Bruco! L'hai trovato! Andrà meglio la prossima volta, Bruco Lula! Ma Pocoio Lula non stava giocando con voi Non si era nascosta Sembra che Lula abbia trovato qualcosa Ellie! Lo Pocoio è il più bravo Arrivo! Ronfottino dice di fare silenzio, Lula Sta cercando di nascondersi Ronfottino! 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 Rrrrrrrrrrrijn! Ecco il nostro campione di nascondino! Siete stati bravi a nascondervi, ma al nostro super segugio non sfugge nulla! Sei una bravissima cagnolina! Cagnolina? Pocoyo li ha scoperti! Beh, Pocoyo, però devi ammettere che Lula ti ha aiutato moltissimo! Vattene via! Ellie vuole sapere perché hai fatto questo, Pocoyo! Non sei stato molto carino a sbarazzarti di Lula in quel modo, sai? Pocoyo la cerca! Ottima idea! Cerca Lula! Qualcuno di voi vede qualcosa che può aiutare Pocoyo a trovare Lula? Le impronte! Segui le impronte! Certo, è proprio passata di qua, sicuro! Ma dove può essere andata? Ma sì, certo! Il Vamush! Ottima idea, Pocoyo! Sì, altre impronte! Lula! Il bruco! Ma allora, Lula dov'è? Guardate! È la sua palla! Oh, ma è terribile! Povera Lula! Non la troviamo da nessuna parte! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo dov'è Lula? Vicino a te! È proprio lì! Ti abbiamo trovata! Lula! Evviva Pocoyo! Evviva gli amici ritrovati! Ciao, ciao! Alla prossima!